Faccio un saluto, come sempre, Nando, Ghost News, un bacione a tutti, chi lo vede, un bacione a tutti, ciao! Ha partecipato all'undicesima edizione del Grande Fratello, Nando Colelli oggi ha però deciso di buttarsi nel mondo dell'hard. Sì, c'è una novità che a breve esce dal mio film hard. Che si chiama La Bella e il Porcone, prodotta dalla Diva Star, con il mio produttore Federico Di Vincenzo, che l'ho fatto con Priscilla Salerno. Tu saresti il porcone? Sì, sarei il porcone, che poi diventa un principe. Io sono il tuo porcone. È una bella favoletta da vedere, divertente. Poi va bene, come nel film hard, poi si fa la pratica, che è la cosa più bella quella.